Sul corpo di Massimo Boaga, il centauro morto sabato a Lesa, sarà eseguita l'autopsia. La salma, ricomposta presso l'obitorio dell'ospedale Santissima Trinità di Borgo Manero, è tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria. La notizia della morte del 53enne ha destato molta commozione ad Arona. Tutto è successo poco dopo le 17, quando la grossa moto di Boaga si è schiantata contro il muretto dell'ingresso di una villa. E' accaduto sulla statale 33 del Sempione, poco prima dell'abitato di Solcio, frazione di Lesa. La vittima è stata avvolta subito dalle fiamme, che si sono sprigionate subito dopo l'impatto contro il manufatto in sasso e ai soccorritori si presentava quasi irriconoscibile. Era in sella alla propria Herley Davidson e procedeva da Lesa verso Arona, quando, poco dopo la curva del Cavallini, è finito contro un muretto che delimita l'ingresso di una villa, lato Monte della Statale. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture. Il Boaga stava rientrando ad Arona dove abitava dopo aver trascorso il pomeriggio sul Verbano. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, gli agenti della polizia locale associata del Vergante e i vigili del fuoco della caserma di Mercurago. Purtroppo nulla hanno potuto fare il medico e i volontari della Cri di Arona. Il Centauro è deceduto sul colpo. La ipotesi che si sono fatte sin da subito è che il motociclista sia rimasto vittima di un malore e abbia perso il controllo del mezzo. Il traffico, assai intenso per la giornata prefestiva, ha subito code e notevoli rallentamenti. Sul luogo dell'accaduto rimane una grossa chiazza nera, causata dal fuoco che ha avvolto sia la moto che il conducente. Il Boaga, separato, attualmente viveva con la madre in via Piave 52 da Arona. Era persona attiva, appassionato di judo e arti marziali e di moto. Oltre alla mamma, Maria Martini, lascia anche due fratelli.